Per la prima volta in Italia, il Festival Tomorrowland 2018 sbarca al Parco di Monza con un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica elettronica. Sabato 28 luglio 2018, oltre Monza, saranno coinvolte in contemporanea Abu Dhabi, Libano, Malta, Messico, Spagna, Taiwan e Belgio, per un grande evento interconnesso. 14 ore di musica su un palco di 350 metri quadrati, divertimento e relax sul prato, tra l'area food e l'area chill out, in una cornice fantasy in pieno stile Tomorrowland. I cancelli aprono alle 11,00 e i primi di che cominceranno a suonare alle 12,00 per continuare no stop fino alle 2,00 di notte. Un viale alberato condurrà ad un grande arco da oltrepassare per entrare nel fantastico mondo di Unite with Tomorrowland. Martin Solvay, Clapton, Klingande, Andrew Rayel, Malà, Marnik, Albertino, Ibu, Mike Dem, Selton, SDGM, Elements of Life e Bilboar Italia Showcase Fit. Stefano Fisic, questi big presenti. Sono stati annunciati anche i tre collegamenti con il Belgio, Armin Van Biran, Dimitri Vegas e Like Mike, Afrogexarani di gay protagonisti del live streaming in contemporanea con le altre sei nazioni che quest'anno ospitano Unite. Durante questi show speciali, anche il pubblico italiano verrà ripreso dalle telecamere e trasmesso in tutto il mondo, che diventa più connesso con Unite with Tomorrowland. Da un punto di vista tecnico, il festival è un capolavoro assoluto, grazie alla connessione via satellite lo show sarà infatti sincronizzato in tutte le location coinvolte. Durante i sette eventi si entrerà in un'altra dimensione, grazie a quanto accadrà sul mainstay di Tomorrowland e al coinvolgimento dei fan di Tomorrowland sparsi in tutto il mondo. La scorsa estate 400.000 visitatori provenienti da tutto il mondo hanno partecipato a Boom, Belgio, alla doppia edizione di Tomorrowland in contemporanea a oltre 100.000 persone dei sette nazioni che hanno vissuto la stessa magica esperienza in una maniera differente. E sarà così anche quest'anno. Diretta TV su Rai 4